Venire in prevenzione primaria vuol dire evitare malattie e soprattutto vuol dire migliorare la qualità di vita perché noi medici di sanità pubblica ricordiamo sempre che è vero che abbiamo aumentato tantissimo la speranza di vita alla nascita, però è altrettanto vero che ancora oggi gli ultimi 12 anni di vita sono affetti spesso da disabilità e da problemi di salute che quindi abbassano la qualità della vita. Quindi quando noi parliamo di prevenzione che può essere primaria cioè prima che un qualcosa si verifichi ovvero secondaria quando intercettiamo la malattia in uno stadio molto iniziale o terziaria quando dobbiamo intervenire quando la malattia sia già manifestata però noi non parliamo mai di una spesa abbiamo un investimento soprattutto in prevenzione primaria perché è noto, ci sono tantissimi studi che dicono ad esempio lei prima ricordava i vaccini, un euro investito in vaccini ne fa risparmiare praticamente otto in successive cure, per cui è meglio parlare sempre di investimento e non di spesa quando si parla di prevenzione. I dati emersi oggi, vaccinazione anti-pneumococcico, meglio casi di malattia invasiva o di polmonite da pneumococco e effettivamente abbiamo dei dati allarmanti, oltre 600.000 casi di polmonite acquisite in comunità ogni anno oltre 8.000 morti da polmonite e quindi direi che avere oggi due vaccini uno per il bimbo con 15 serotipi di pneumococco e uno per gli adulti con 20 serotipi di pneumococco e averlo in offerta attiva e gratuita e ricordare che la regione Liguria nel 2003 è stata la prima regione in Italia a introdurre la vaccinazione universale di tutti i nuovi nati abbattendo drammaticamente i casi sia di patologia invasiva che anche di otite media acuta direi che oggi vedere queste coperture, meglio scoperture, cioè questo bassa utilizzo della vaccinazione non può che fare male.